Come riconoscere un affresco? Come viene realizzato? L'affresco è un'antichissima tecnica pittorica che si realizza dipingendo con pigmenti di origine minerale sciolti in acqua su intonaco fresco. In questo modo la calce presente nell'intonaco, asciugandosi, ingloba il colore che acquista così resistenza all'acqua e al tempo. Il muro, realizzato in pietra o mattoni, deve essere secco e senza dislivelli. Nella fase successiva viene steso l'arriccio, una malta composta da calce spenta o grassello, sabbia grossolana di fiume o in qualche caso pozzolana e, se necessario, acqua, steso in uno spessore di un centimetro circa, al fine di rendere il muro più uniforme possibile. Sopra l'arriccio si stende l'intonaco, che è l'elemento più importante dell'intero affresco. È composto di un impasto fatto con sabbia di fiume fine, polvere di marmo o pozzolana setacciata, calce ed acqua. Il pittore prepara su un cartone il disegno da realizzare sul muro. I contorni del disegno vengono bucherellati con una punta. In seguito si appoggia il cartone all'intonaco e, spolverando con un sacchettino di garza pieno di polvere, di carbone o di ossido rosso, il colore passa attraverso i buchi, lasciando una traccia sull'intonaco sottostante. Ecco come appare il disegno riportato sull'intonaco. Il colore viene steso sull'intonaco ancora umido e deve appartenere alla categoria degli ossidi. Proviamo a riassumere. Per prima cosa si realizza il muro in mattoni o in pietre. Successivamente si stende uno strato di malta grossa detto arriccio. Su di esso poi l'intonaco di malta fine detto tonachino. E per finire il pittore stende il colore a base di ossidi diluito con acqua. Facciamoci ora raccontare dai ragazzi di Dumenza la loro esperienza nella tecnica dell'affresco. Mentre Rossella e Dennis finiscono di stendere il tonachino sulla loro mattonella, alcuni stanno già realizzando il disegno preparatorio, bucherellandolo e poi applicandolo al tonachino per procedere poi allo spolvero. Anche Vanessa e Stefano stanno stendendo il tonachino con grande cura e precisione. Rossella che ha già finito sta aiutando Nicole. Ecco Lara e Martina che stanno iniziando a stendere il loro colore. La principale difficoltà di questa tecnica è il fatto che non permette ripensamenti. Una volta lasciato un segno di colore, questo verrà immediatamente assorbito dall'intonaco. La carbonatazione avviene entro tre ore dalla stesura dell'intonaco. Per ovviare a questo problema, l'artista realizzerà piccole porzioni dell'affresco, dividendolo così in giornate. Ecco i loro lavori terminati. Il tema scelto è stato lo sport. Grazie. 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 Grazie.